Sono abbastanza contento per la prestazione che abbiamo fatto, peccato per il risultato perché forse potevamo portare a casa qualcosa in più, però sappiamo che quando si gioca con grandi squadre non puoi concedere niente, specialmente il primo gol potevamo sicuramente evitarlo, però comunque penso che a questo punto dell'annata quello che conti sia più fare la prestazione, che comunque l'obiettivo che dovevamo raggiungere l'abbiamo raggiunto e ripeto sono abbastanza soddisfatto della prestazione che abbiamo fatto. Lottare per la salvezza è sempre difficile perché comunque mentalmente più passano le partite più la situazione diventa pesante, e comunque la palla inizia a pesare, come ho già detto anche altre volte, quindi è una situazione molto particolare, però noi siamo stati bravi a sfruttare anche l'inerzia di alcune vittorie e uscirne il prima possibile. Io non ce la faccio, quando hai imparato a uscire palla in piede, questo merito tuo? No, no, io no, io sveglio se è per me. Mi dicevi già due tocchi, due tocchi! Però siamo stati bravi appunto a riuscire a sfruttare l'inerzia delle vittorie che abbiamo ottenuto, poi soprattutto con gli scontri diretti, quindi tanto di cappello a questa squadra e a quello che ha saputo dimostrare sul campo. Personalmente sono molto felice perché finalmente posso far parte di questa squadra al 100%, non c'è più prestiti e quant'altro, perché con la salvezza è scattato l'obbligo di riscatto, e quindi io sono, ripeto, molto felice di far parte di questa squadra e vorrei soprattutto già iniziare a pensare all'anno prossimo per cercare di non lottare per la salvezza, ma di ambire comunque a qualcosa di più importante. In questo periodo io non credo che si possa definire calcio, senza tifosi, senza l'ambiente che si crea intorno alla partita. La voglia di percepire quell'atmosfera, quelle sensazioni è tanta, sembra più, in un certo senso, di giocare veramente delle amichevoli estive, anche se poi ovviamente i punti contano e il risultato conta. Spero che possa tornare tutto alla normalità il più velocemente possibile.